Buon peperiggio tifose e tifose di Firrucci TV, benvenuti alla seconda giornata di campionato alle vie regionali Under-17 tra Bonpastore e Costaglia Delca, un saluto da Gabriele Riccomono E' così, grande, la parata di Micelli Qui c'è tutto da solo, il nombrato da Proventino, balla che partirebbe in zona 2, va giù Calcio di rigore, calcio di rigore, contestato da Di Ripeto Attenzione, tutto pronto, Antona, da dischetto Bonpastore in vantaggio, Antona, 1-0 Guardi il tempo in porta, forse, mi sa Attenzione, parte il tiro E prende la traversa, che incrocio Mamma mia, spaccata la porta per la Rivelli Miracolo del portiere Va, la ricerca del compagno, ancora Tiro, salvataggio sulla linea Spinelli che poi lo trova L'apertura per Di Ripeto, di Ripeto, di Ripeto Non va sul fondo Ottimo, l'anticipo, ancora di Caminita Caminita, rientra Caminita, il tiro a giro Sul fondo C'è La Delcam che pensa molto Qual è questo? Qual è il giro? Sul fondo Ed è finita Finisce qua Bonpastore 1 Ad Elcam 0 Con il gol Del numero 4 Antona Un saluto da Caminita L'apertura Grazie a tutti.